E' stato scoperto con la droga in casa ed è finito nei guai un giovane 21enne battipagliese. Questo è il frutto di una nuova operazione per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti a Battipaglia, dove gli agenti del locale commissariato di polizia guidati dal vicequestore immacolato a Concia hanno fermato il giovane in località Belvedere. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di scoprire 47 grammi di ascici, una dose di marijuana, una somma di denaro probabile provento dell'attività di spaccio e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato.